bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono io il vostro per peggiore e oggi siamo qui su cat mario un gioco che hanno giocato almeno tutti una volta nella vita tutti i gamer non dico che hanno fatto un gameplay però per provarlo per dire ma questo gioco veramente difficile io posso sconfiggere il mare tipo così no a spazio a come già ok stiamo calmi io sto scherzato ma in genere faccio più o meno così ma cominciamo molto bene a quanto vale due sconfitte in venti secondi spero che non venga questo big bubble bianco a farmi il mazzo e l'ho uccito io è una presa per il culo maronna che mannumarata ok ma come cazzo cioè prima senza neanche pensarci io invece lo voglio fare vogliono voglio prendere per il culo e quello mi beffa e va che genio che sono eh ma io dove passo scusa a casa di tua madre passo ma dove vado e cazzo lo so che sembro un vecchio decrepito quando faccio così ma quando mi incazzo mi incazzo mi incazzo c'ho gente che ha rutto persino le proprie cose mannaccio stava anche il fungo porcino eh ma io salto e questa cosa salve ma c'è io non capisco questo gioco è fuori dalla orbita e dove vado a fermare proprio a fianco al mostro mi vado a fermare ma si ma tanto che ve ne fotti a voi sai che c'è di nuovo vuoi sapere a fanculo e mo ti ammazzo io e cazzo mi che sembra natale e poi a squavola non è vero e va a fanculo ah ho preso il fungo bene ma cosa ci potremmo mangiare capito? no vicino vicino al check point ma che pezzo di merda se era vestito rosso e bianco sembrava un ovetto kinder quel coso tutto ma io non ci vado per sopra Gesù ma che cazzo che poi quando uno muore a mio paese non penso che se uno muore tipo uno viene sparato all'improvviso si fa una si fa un barco sottoterra e lui cade giù che poi chi è? è un gatto che poi il cat Mario ma questo non è il gatto di Mario non è che il gatto è l'animale domestico di Mario giusto perchè il gioco sembra a un fermario eh baffanculo ora mi prendi check point e tu e mamma mia chi sono? sono Ox come se non sapessi che ora passa merda e l'ho preso del deletano meno che muoio no? è buono lì oh tu 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 ma come fanno la gente a dire vicino a messa senza consiglia ma non ho capito ma io ora per dove merda passo ti tenetevi fortunati che ora sto facendo il video e non sto non sto sclerando dicendo brutte parolacce perchè poi ti dite che fai peggiore il volgare vabbè muoio e che serve cazzo ma come devo fare ma c'è certi giochi proprio impossibili la gente che li finisce fa vicino con almeno 300 video pianificati almeno 300 video pianificati vi ci riesce in un video vorrei pretendere molto lo so ma ma merda ma arrivo proprio no voglio morire non me ne fotte la mia vita è un inferno vabbè penso che così vada bene la stecchetta ma sembrava muoio cazzo è un altro po' che stacco ma non ho questo cosa diceva ecco qua prima che scendo no eh ma da per tutte vabbè ma ma vaffanculo andatevelo a prendere super il teletano la parte dove il sole non batte dove c'è un'ombra lì state bene bellissimo no no 5 stelle per questa canta molti di voi me l'avete detto porca puttana di paregettmario io non lo farò mai più eh vabbè ci lo farò ma giusto per far vedere perché tanto non voglio farlo perché voglio far vedere che lo completo perché a parte ma vedi ciò eh sì anche dal culo escono questi cosi già perché sono marroni quindi sono dei tipi di merda sono no no ma non si può questa è l'ultima volta che ci gioco poi è l'ultima volta che e poi stacco perché non me ne fotte di un cazzo di un negro di tre mani di allù no e chi la lo ha cari l'ultimissima volta che se in realtà non ci sarebbe video sarà meno tre quattro ore della mia vita sta a fare get mario mi hanno chiamato quelli di videogiochi belli ma è a fare quattro puntini puntini va che forse è meglio vabbè la stacco vabbè ragazzi il video finisce qui ciao a tutti ciao a tutti